a Radio Lombardia, ben trovato al nostro ospite di oggi, Mario Furlan, buongiorno. Buongiorno Luca. Mario Furlan, fondatore dei City Angels, ma diciamo oggi sei nella veste di scrittore, diciamo così, che poi fai mille cose, come ti presento? Noi ci conosciamo da tanti anni. Come amico di Luca Levati, è la cosa migliore. Ma non va bene così, perdi dei punti, diciamo, se ti presenti così. No, da questo. Allora, Mario Furlan, felici per sempre, come affrontare le difficoltà della vita e vivere sereni? Qualunque cosa accada, perché tu un po' fai, adesso si dice, però quando hai iniziato tu non c'era ancora, fai il coach. Sì, sono coach, mi occupo di formazione, insegno, pensa un po', ho l'onore di essere il primo in Europa, di essere stato il primo a insegnare motivazione e crescita personale all'università. E quando ho iniziato anni fa si diceva, ma che cacchio è? Infatti questo dicevo, cioè mi ricordo che tu sei stato praticamente il primo. Adesso, come dire, è una cosa abbastanza diffusa, si sa più o meno di cosa stiamo parlando, più o meno. Adesso poi magari ce lo spieghi tu nel dettaglio. Però tu sei stato un po' un'apripista, non solo in Italia, ma appunto in Europa. Sì, io credo che ci sia... Con soddisfazione, credo. Sì, è una cosa che mi rendo orgoglioso. Credo che ci sia bisogno di questo, bisogno di coaching, bisogno di formazione, nel senso di formazione per la vita, non soltanto nell'azienda. Io tengo corsi di formazione per l'azienda, spiego come si fa a moltiplicare il fatturato, ad essere dei bravi leader, ma nei miei libri, in particolare in questo mio libro che è da poco uscito, Felici per sempre... Adesso lo faccio anche vedere, guarda così, eccolo qua, guarda qua. Questa è la mia foto di 15 anni fa, però sono ancora io. Do dei consigli, spiego dei segreti, perché sono dei segreti, alcuni sono antichi, altri sono nuovi, ma sono tutti potenti ed efficaci. Segreti che aiutano a vivere meglio, ad essere felici. Partendo da un presupposto... Se sono segreti li metti sul libro... Non sono più segreti, ma infatti il mio compito è quello di svelare i segreti, Luca. Ma sono ancora noti da poche persone, da quelle che leggeranno il mio libro Felici per sempre. Parto da un presupposto, e dimmi se sei d'accordo. La felicità non deriva da quello che abbiamo, ma da quello che siamo. Io sai che sono un fautore di Eric Fromm, avere o essere, e quindi sono, come dire, proprio un discepolo di Fromm e quindi codivido totalmente, insomma. Ecco, perché con i City Angel, sai che mi occupo di aiutare i senza tetto. E vedo senza tetto che sono disperati, ah non ce la faccio più, voglio farla finita. E altri senza tetto che nella stessa situazione sono contenti, sono sereni, non si lamentano. Conosco anche milionari in euro, che hanno tutto, alcuni sono soddisfatti, felici, e altri che invece si vogliono suicidare. Senza tetto che si drogano e che subriacano, milionari che si drogano e subriacano. È la dimostrazione che non è ciò che abbiamo, ma quello che siamo, la nostra filosofia di vita, il nostro atteggiamento nei confronti della vita. Quello che proviamo, diciamo. Certo. I nostri sentimenti, in sostanza. Una persona, felice è una persona che riesce a vedere il proprio passato come un ammaestramento. Il passato deve essere un insegnante. La persona infelice è quella che vede il proprio passato come un cumulo di tragedie, oddio, oppure lo guarda con rancore, con incazzatura. Tutti conosciamo persone che sono arrabbiate come bisce. Perché tu non sai quello che mi hanno fatto e mi hanno fatto questo e quest'altro e quest'altro ancora. E tu pensi, boh, l'hanno fatto anche a me. E quando ti è successo? Sette anni fa! E dopo sette anni sono ancora incazzati come bisce. Questa è una ricetta per essere infelici. Insomma, quindi la parola per fare bene il coach bisogna usare incazzati come bisce. Aiuta a disincazzarsi. La bravura tua Mario è anche di usare un linguaggio comprensibile perché poi mi insegni che soprattutto, ma anche nel coaching, la comunicazione è fondamentale. Perché anche il fatto di come comunichi tu in questo momento, cioè per uno che ti sta sentendo e vedendo, comunica, come dire, molto di te, di come sei. Se uno ti ascolta e ti vede, no? Io credo che devi arrivare al punto. Qualche volta uso anche il turpiloquio. Perché? Perché ha una valenza icastica superiore. Seconda delle circostanze, ovviamente, no? Seconda delle circostanze, non è che ce l'ho sempre in bocca. No, no, come dire, può avere una sua valenza di utilità comunicativa, diciamo così. Sì, voglio dire, non è la stessa cosa dire non sento un cazzo o dire non ho ad un pene, no? C'è una certa differenza, capisci? A volte le parolacce servono. Non ho ad un pene, però. Ha la sua vena poetica. Il nostro Michele, che è uno molto tranquillo in regia, dice così di solito. Perché è uno molto tranquillo. E poi scusami Luca, vorrei finire il discorso. Le persone felici sono quelle che hanno un atteggiamento positivo nei confronti del passato. Imparano dal passato e non si lasciano schiacciare dai dolori del passato che tutti abbiamo. Persone che riescono a vivere il presente, a godere del presente, un po' il carpe diem, l'ichet nunc. Mentre le persone infelici sono quelle che sono travolte dai dispiaceri del passato e vedono il futuro con paura, con terrore. Oddio, cosa succederà? Oppure, un'altra ricetta per essere infelice è pensare che nel futuro, quando avrò raggiunto quello, allora sarò felice per sempre. Non è vero. Non ci sarà nessun momento della tua vita. Quando avrai quel lavoro, quando avrai quella persona, quando sarai in pensione, allora sì che sarai felice. Sarai infelice esattamente come sei adesso. Perché parte tutto da qua. Allora, torniamo a parlarne tra qualche istante perché ho un sacco di domande da fare, facciamo una breve pausa, però ricordo Mario Furlan. Felici per sempre come affrontare le difficoltà della vita e vivere sereni qualunque cosa accada, Cairo Editore. Perché l'editore... Fai vedere anche la copertina. Aspetta che faccio vedere così, guardo con gli occhi storti perché in realtà la camera è lì, ma io per vedermi guardo di là e sembra che vedo la madonna. In realtà... In realtà vedi me ed è un'altra cosa. Ma non ho messo il monitor là in alto perché c'è la porta, non è possibile. Così si vede bene. Vabbè, torniamo tra poco. Siamo di nuovo qui in diretta con Mario Furlan. Felici per sempre come affrontare le difficoltà della vita e vivere sereni qualunque cosa accada a Cairo. Adesso faccio bene, guardo lì perché la telecamera ho imparato che è lì. Faccio bene. Ecco Mario, stavamo dicendo che l'importante è essere e non avere sostanzialmente come concetto di base. E ci hai fatto anche degli esempi. È giusto. Però, come dire, tu quando insegni, hai dei gruppi, per intenderci, omogenei, di persone? O come dire, a water age dipende dal... Beh, dipende. Quando vado a fare formazione nell'azienda, di solito i gruppi sono omogenei. Quando tengo corsi aperti al pubblico, ci sono persone diversissime. Giovani, anziane, uomini, donne, persone che hanno già avuto molta esperienza di coaching, persone che non sanno nemmeno cosa sia. Ma a ciascuna cerco di dare ciò di cui ha bisogno. Però la cosa che ti conosco da tanti anni, la cosa che mi incuriosisce è come è stato il passaggio. Diciamo, perché tu in realtà hai sempre vissuto nel mondo della comunicazione. Hai fatto il giornalista, no? E da lì sei passato, diciamo, a questa esperienza. È stato, come dire, un passaggio, credo, graduale, no? Guarda, il passaggio è stato quando mi sono licenziato dalla Mondadori per fondare i City Angels. È stata una bella scelta, insomma. È stata una scelta bella, è stata una scelta anche incosciente, perché sono passato da due milioni al mese di allora, anni 90, a zero. Che erano tanti soldi. Sì, e sono caduto in depressione. E allora, proprio visto che ho detto, ho fatto una cavolata, ho lasciato il lavoro della mia vita, adesso faccio fatica ad andare avanti. E poi i City Angels, allora, 94, non erano visti bene come adesso, perché si pensava che fossimo ronde pericolose. Esatto, c'era anche quella spartelli, mi ricordo, di comunicazione da fare. Bravo. In quegli anni. E allora, proprio per tirarmi su io, ho iniziato a prendere in mano libri di motivazione. E questo mi è servito. Poi mi è piaciuta la materia, l'ho approfondita, e adesso di mestiere faccio il formatore, il coach, il motivatore. E dico alle persone, guarda, due consigli veloci. Alle persone che, come tutti noi, hanno alti e bassi nella vita. Noi tendiamo ad assolutizzare, no? Sì, certo. Quando le cose ci vanno bene, pensiamo adesso sarò felice per sempre, adesso andrà tutto bene. Col cavolo. Quando le cose vanno bene, non ti esaltare, perché prima o poi andranno male. Quando le cose vanno male, non pensare, la mia vita è finita, non mi risolleverò mai più. Prima o poi, le cose torneranno ad andare bene. Se siamo sopravvissuti fino alla nostra età, caro Luca, è probabile che sopravviveremo ancora. Quella dei gatteri, più o meno. Quella dei fichi secchi. Sopravviveremo ancora per un po' di anni. Però diciamo, un approccio che poi arriva anche con l'esperienza, il tuo. Perché è difficile che a vent'anni puoi avere questa... Una cosa che arriva con l'esperienza è anche la capacità di seguire il proprio cuore, seguire i tuoi obiettivi, senza voler compiacere a tutti i costi gli altri. Io credo che un grande segno di libertà sia dire no senza doversi giustificare. In modo gentile, ma ti dico no, mi spiace, non posso, non voglio, non mi va. A vent'anni siamo ossessionati da quello che gli altri pensano di noi. A quarant'anni di solito ce ne freghiamo. E quando si arriva alla nostra età, capiamo che gli altri, noi non ci pensano. Gli altri si fanno i cazzi loro. Quindi che senso ha? Un altro francesismo. Un altro francesismo e a proposito di libertà, siccome ho visto questa trasformazione tua, che è stata una trasformazione fisica. Cioè adesso dico una cosa abbastanza banale, però mi ricordo di te in giacca e caravatta. È vero, ero tutto elegante. E sai cosa? Hai ragione, hai ragione. Ma perché allora io pensavo che per piacere agli altri... Devo andare tutto in giacca e caravatta, a posto. Però non ero io. Mi ci vedi con la giacca e la cravatta? Adesso non più, però ti ho visto io. Sono testimone. Ma ero a disagio. E allora ho detto no, devo essere me stesso. Io sono così e lo sarò anche a 80 anni. In maglietta, in felpa. Sono così pure sulla copertina dei libri. Questo libro devo dire che sono con la giacca, a caso raro. Sì, però giacca e maglietta. Giacca e maglietta. Non mi vedrete mai con la cravatta. Perché sarebbe un andare contro quello che sono. A quello che provi, insomma. Sì, per carità. Non c'è niente di male a mettersi la cravatta. Conosco persone che non potrebbero andarci senza. Ma io con la cravatta mi sento impacciato. Non mi sento me stesso. E ciascuno deve essere se stesso infischiandone degli altri. Naturalmente entro certi limiti. Certo. Poi viviamo in comunità, certo. L'importante è non fare del male agli altri. Questo, diciamo, è uno degli elementi che caratterizza poi il tuo modo di essere. Insomma, l'aprirsi sempre agli altri. Anche perché per fare, immagino, questo lavoro occorre un'apertura non solo mentale, anche pratica. Cioè nel quotidiano. Sì. Per fare il lavoro del coach bisogna essere persone che si trovano bene con gli altri, che amano gli altri. Devi credere negli altri. Credere che gli altri possano crescere, possano migliorare, possano cambiare. Perché altrimenti se non ci credi che coach sei. E poi devi credere in te stesso. Te volevo chiedere poi un elemento che caratterizza, credo, la mancanza di invidia. Sì. È una cosa molto diffusa nella nostra società, l'invidia. Per quello te l'ho detto. Anch'io a volte nella vita ne ho sofferto, lo confesso. Però come dire, un elemento che può fare la differenza, quello. Perché se no come fai a insegnare agli altri. Perché se sei invidioso tendi a non dare. È vero. O a non darti. Io credo che sia giusto paragonarsi, soprattutto con se stessi. Oggi non ho più ansia di prestazione. E nel campo del coaching, della formazione, ci sono diversi che hanno l'ansia da prestazione, che dicono, ah, io vendo più di te, ho più gente in aula di te. Io non mi paragono agli altri. Mi paragono a quello che ero io ieri, l'altro ieri, un anno fa. E l'importante è che io veda che io sto migliorando. Poi, paragonarmi con gli altri non ha molto senso. È come paragonare le mele alle pere. Sono cose diverse. Ogni persona mondo a sé. Allora, ringraziamo Mario Furlan. Felici per sempre. Come affrontare le difficoltà della vita e vivere sereni qualunque cosa accada. Questo è il suo nuovo libro Cairo Editore. Ecco, lo faccio rivedere. Ti cedo, diciamo, il microfono e il video per l'ultimo saluto. Ciao Mario. Allora, ci vediamo presto, insomma, con i tuoi consigli. Perché poi cerco di seguirli e adesso lo leggo e poi dopo ti dico, insomma, se miglioro o no. Grazie. Adesso, quanto ti senti felice da 0 a 10? Oggi? Oggi. Sette. Allora, poi mi dirai come ti sentirai dopo aver letto il libro e averlo messo in pratica. Va bene, spero di arrivare almeno all'otto o al nove. Almeno a un'utilità pratica, se no non va bene. Grazie allora Mario Furlan. A presto. Grazie Luca. A presto. A presto. A presto. A presto.